17 marzo 1835, un uomo viene impiccato di fronte a centinaia di persone è colpevole, Dio rendi crimini Dopo 170 anni da quei fatti, la figura di Giorgio Orsolano vive ancora tra leggenda e fantasia L'innocente incauta giovane lo seguì Cresme Giorgio, cresme! Confessa, confessa! Capace di qualunque altro delitto, è già condannato per tentato stupro violento e per furti in chiesa Giorgio Orsolano è condannato alla pena di morte Canavese è terra anche di cinema, non solo di tutto quello che parliamo normalmente e settimanalmente Dal nostro canale e oggi andiamo a riscoprire esattamente a vent'anni di distanza Una produzione molto particolare che però fece grande successo e riportò alla ribalta anche quello che è un po' un mito Una leggenda ma anche una storia vera che riguarda proprio il territorio canavese Sto parlando della Iena di San Giorgio Dicevo prima 20 anni, due decenni fa un giovane regista canavese San Giustese decise di realizzare un corto che in realtà poi alla fine dei conti diventò un vero e proprio documentario Che portava la nome di Iena di San Giorgio Quel giovane regista è qua, Andrew Berger è qui, sono passati qualche anno appunto come dicevamo Tanti anni, sono passati vent'anni Vent'anni però quella storia, quel VHS tra l'altro Perché all'epoca dobbiamo ricordare che esisteva come supporto il VHS Esatto, cosa che adesso è sparito Se parlano i giovani appunto i millennial non sanno assolutamente di cosa si tratta O almeno forse l'hanno sentito parlare Ecco, allora con te vorremmo un attimino ripercorrere quel percorso che ti ha portato appunto a realizzare la Iena Sapendo un pochettino di quelle che erano le curiosità, poi capire dalla Iena i passi che hai compiuto E anche parlare un pochettino di quello che è il cinema o comunque le produzioni video in canavese Allora raccontaci un po' da cosa nacque l'idea di realizzare la Iena Ma cosa ti posso dire? Se uno ci pensa bene è una storia molto a parte che è ancora attuale Stiamo parlando comunque di omicidi purtroppo, di serial killer ed è attuale ancora oggi Tra l'altro lui fu considerato il primo serial killer italiano documentato E quindi per noi è stata anche quella una bella storia Diciamo che non era Giorgio Orsolano Giorgio Orsolano, detto la Iena di San Giorgio Lui è stato appunto protagonista di questi omicidi, di queste sparizioni, di queste ragazze giovani Che a San Giorgio, attraverso San Giorgio e Montalegno Stiamo parlando 1830, 1835, 1834 poi gli è stato impiccato Con lo stesso modo operandi, come si dice, no? Ancora prima che il termine serial killer fosse guagnato Quindi la leggenda è abbastanza inquietante perché comunque se ci pensi La leggenda vuole che un parroco del paese mangiando un salame All'epoca chiaramente la carne trita del salame era tagliata in modo grossolato Mangiando questo salame all'interno trova un dito E il dito ha un anello L'anello lui lo riconosce come una di queste ragazze scomparse E da lì nasce appunto la leggenda di questo omicida che faceva i salami Con la carne delle vittime e ne vendeva pubblicamente Ancora oggi, per chi se lo ricorda, gli abitanti di San Giorgio Vengono chiamati le Iene di San Giorgio, i Mangiacristiani Un appellativo crudo, duro, che però arriva da quel periodo Chiaramente questa storia me la raccontava mio nonno, me la raccontavano i miei genitori E diciamo che ti ha stimolato Chiunque rimane un po' impressionato da questa storia Allora la mia idea, visto che io già all'epoca mi divertivo a girare filmati e documentari Ho detto perché non farne un cortometraggio La storia c'è tutta, si è inventata o no Comunque deve essere molto suggestivo di creare Soprattutto a me piacciono i film in costume Quindi insomma stavamo parlando del 1800 Alcune location ci sono ancora, San Giorgio Tutto questo qua ne ho parlato con Maddalena Serazio Una persona di San Giorgio Che poi è quella che addirittura poi ha scritto Ultimamente il proseguo della Iene di San Giorgio Ho scritto un libro intero dove ha documentato anche tutti i suoi avi E tutto quello che è successo dopo Lei mi ha aiutato a creare un piccolo gruppo di persone San Giorgesi Poi chiaramente io arrivo da San Giusto Quindi dovevo in qualche modo Campagnismo forte Esatto, dovevo in qualche modo entrare in quel paese delle Iene E da lì lei è stata molto brava Tramite documenti della parrocchia Tramite documenti comunali Tramite ricerche A ricreare chi era Giorgio Orsalano Dove arrivava Quanti anni aveva Quando ho commesso i primi amicidi Abbiamo iniziato a intervistare degli anziani del paese Abbiamo iniziato a fare le prime riprese E poi da lì ci siamo resi conto che questa cosa Tanto che corto Non era più corto Non era più un corto Si stava trasformando in quello che si chiama adesso Una docu fiction Un documentario con delle scene di fiction Alla base c'è una ricerca storica E quindi alla fine siamo arrivati a un prodotto di un'ora Dove tutto quello che si sapeva su Giorgio Orsalano Lo abbiamo detto E ancora oggi tutto questo è valido Nel senso che le nostre ricerche Quello che abbiamo fatto Avevano delle fondamente storiche Quindi insomma Se ci fossero qua gli americani Avrebbero già fatto Si si Altro che serie Avevano fatto Tipo il Come si chiama Non ho aperto quella porta In versione Gesson Gesson Sì Ormai Beh Loro serie killer Film horror Su queste cose Vi appassionano talmente tanti Che fanno dei filoni Ben al di 13 Addirittura Ho avuto 12 capitoli Quindi a quest'ora Probabilmente chi si ha capito Saremo della I.A.N. San Giorgio Parto le battute È stato comunque Diciamo Un primo step importante Partè anche a livello di carriera Tra l'altro Un successo enorme all'epoca Perché quella video VHS poi Venne distribuita ampiamente Anche con l'uso di media locali E anche Ricordavamo prima La telecamera spente Che nel momento in cui Ci fu la proiezione Dovesse andare avanti per ore Perché c'era Tantissimo curiosità Sì c'era oltretutto il paese Che voleva vederlo Quindi eravamo al teatro Eravamo al teatro di San Giorgio C'erano anche gente da fuori Che anche amici O simpatizzanti Mi permette di dire È vero che la cronaca Indipendentemente dal secolo Questa cosa qua Attira sempre Anche oggi Quella è una vera cronaca Sì sì Una vera cronaca nera E soprattutto È una cronaca Che Se stai a guardare Ha diversi risvolti Perché poi comunque Lui è stato Condannato È stato giustizzato a morte Quindi c'è anche poi Tutto il risvolto Se vuoi Anche Legato alla pena di morte stessa Certo Alle indagini Come sono state fatte Come erano fatte allora Puoi fare dei paragoni Puoi andare appunto A vedere come i crimini Di allora si fanno ancora adesso Cambiano soltanto Alcuni aspetti Ma poi l'uomo Continua In queste In queste attività Per cui Non morirà mai Quella storia Maddalena L'ha dimostrato Con un libro Sulla Iena Che è uscito Qualche anno fa Dove poi Ha continuato A studiare E continua A avere interesse A questa storia Tra l'altro C'è stato proprio Di veri e propri studi Perché Ricordiamo che Addirittura Il calcolo Della testa Di Giorgio Solano È ancora adesso Al museo di anatomia Di Torino Sì è successo Studiato Quando è stato impiccato Ricordo In Sant'Anna Perché Nella zona Dove lui Aveva Seppellito le vittime Lungo il rivo Piatonia Quindi fu impiccato Una mattina Arrivò Tantissima gente Era un evento Era un evento Anche come monito Assolutamente Sì C'erano le confraternite C'era il boia C'era il tirapiedi C'era la forca Dove venivano giustiziati Il giorno Dell'impiccagione Fu tagliata Portata via La testa E anche I genitali Della testa I genitali Non si sa più Nulla Della testa Ne è stato fatto Un calco E ancora adesso È visibile Al museo di anatomia Anche Alberto Angela Fece un programma Sui vari criminali E prese in mano La testa Di Giorgio Solano Dicevamo Questo è stato Un po' Quello che ti ha aperto Il tuo mondo Il mondo che Poi Sì E quello che mi ha appassionato Fare Quindi la passione È arrivata Arrivata da lì Sulle storie Diciamo Legate al passato Dove non devi inventare nulla Perché poi Ci sono tutti Gli ingredienti Per appassionare Cioè Non voglio dire Un conto E se decidi di fare Una fiction pura E quindi puoi prendere spunto No? Ma quando poi Ci sono tutti gli ingredienti All'interno della storia Allora No? Va da sé Infatti I tuoi amori Che hai poi prodotto Dopo Fino ad oggi Sono fortemente legati al territorio Questo è sicuramente importante Eresia per esempio Esatto Eresia 2011 La storia sulle streghe di Levone Cioè Un piccolo paesino Sempre qua Nel Canavese Dove queste quattro donne Furono Accusate Di stregoneria Due di esse Morirono a rogo Giustiziate dalla santa inquisizione E tenute a pane e acqua Voglio dire Nel castello di Rivale Nel castello vecchio di Rivale Dietro chiaramente C'era poi tutto Anche un Diciamo Un processo politico A queste A queste A queste morti L'inquisizione Era poi Dopo che abbiamo studiato Tutte le carte Era poi Quasi una scusa Per arrivare A certe situazioni Però Quello è un altro Quello è un cortometraggio Che ha anche Diciamo Che ha sviscerato Un po' Quello che era La santa inquisizione Che è un po' Un tabù in Italia In generale Difficile Parlare Di questi Di questi temi Soprattutto in Italia Se tu guardi Ci sono veramente Poche produzioni Che parlano di quello Gostanza da Libiano In bianco e nero Un film bellissimo Di una storia toscana Molto simile A streghe di Levone Ma voglio dire È un film in bianco e nero Di tanti anni fa Diciamo più per i cultori Sì Un po' più di nicchia Però Ho saputo che Dopo il processo Delle streghe di Levone Di Triora In Liguria Il processo Delle streghe Di Levone È il secondo processo Più studiato in Italia Perché Sono presenti Ancora gli scritti Delle carte ufficiali Chiaramente Si scriveva Quello che L'inquisizione L'inquisitore Diceva Le risposte Delle poverette Non ce le abbiamo Eh no Parlavano anche in volgare Era un altro E poi voglio dire Lì Sempre tutto Diciamo Non volgare Ma Canavesano La lingua Canavesano È il protagonista Di un altro Suo lavoro Sì L'anno dopo 2012 Insieme a Ilario Blanchietti Anche lui Diciamo un cultore Più a livello Di sceneggiature Di libri Anche lui Canavesano di Orio Insieme a Ilario Che è un amico Abbiamo Iniziato a mettere insieme Quello che doveva essere Un vero e proprio film Con la particolarità Che doveva essere recitato In Canavesano Non in piemontese In Canavesano Chiaramente ci vogliono Tante risorse Per un film Ci siamo accontentati Di un mediometraggio Comunque un 30 minuti Che io sappia È l'unico Finora Appunto Un prodotto Realizzato Ricordiamo anche il titolo La stagione Dei gusci di noce Ecco Che almeno così Se c'è qualche curioso Che ci segue Almeno così Va a cercare La stagione Dei gusci di noce Insieme anche alla Iena Lo trovate sulla mia pagina Di Youtube Se posso dirlo Andri Verga L'abbiamo appunto Messo in rete Dopo tutti questi anni Voglio dire Che era sempre stato Su un DVD E quindi adesso La rete la usiamo così E lì invece È fiction Nel senso Ilario si è ispirato Alle storie Della grande guerra Della prima guerra Canavesana Per dipanare Tutta una storia All'interno di una famiglia Dove Non facciamo spoiler Però Succedono delle cose Almeno così Chi si incuriosisce Va a vederlo E soprattutto Poi è sottotitolato Per chiunque Esatto Ma è importante Ancora Avanti rispetto a Gomorra Abbiamo sottotitolato Il canavesano E tra l'altro Noi viviamo in piccoli paesini E ci siamo proprio resi conto Come la stessa parola Voglio dire A 5 km di distanza Cambia totalmente Quindi abbiamo Quindi abbiamo Tra l'altro Usato un canavesano Legato proprio A una zona specifica Qua del basso canavese Quindi stiamo parlando Di Orio Barone Giusto San Giorgio Villate Montalenghe Quella zona lì Perché già se prendi Quell'area lì E la sposti Più a nord O più a sud Cambiano delle cose Ti confermo Perché io Abito In canavese Nell'altro canavese Ma sono originario In locana E tra dove abito A dove sono originario Sono due dialetti Completamente diversi E a volte È difficile comprendersi E secondo me Queste operazioni Sono anche interessanti Perché preservano Un po' di cultura locale Cultura locale Che tu hai affrontato Anche con un lavoro Dedicato Al primo re d'Italia Sì Quello lì però Te lo smentisco Perché per anni È sempre stato Considerato Il primo re d'Italia Così viene definito Erroneamente definito È stato uno Del regno italico Sì Però Arduino Sicuramente è stato Una delle figure Più importanti Dell'anno 1000 Qua in canavese Sì Abbiamo tracciato Tutta la sua storia Anche quello Il bello Del costume Il bello Di far rivivere Il medioevo Questo grazie Soprattutto A un gruppo storico Di Torino Di Speculum Di storia Che li ho coinvolti Perché mi serviva Proprio Dei figuranti Degli attori Con i costumi Loro sono molto rigorosi Nella ricerca Dei costumi Delle frattezze Dei colori Tutto quanto E poi siamo andati A intervistare Gente di rilievo Come Giuseppe Sergi Che è uno storico Per eccellenza Forse quello che ha studiato Più di tutti Arduino In Italia In Italia Ne ha fatto un libro Io sono andato A una sua conferenza Da lì mi sono innamorato Di questo Di questo personaggio Come lui lo raccontava Poi Lui ha accettato Giuseppe Sergi Di essere intervistato Me lo ricorderò sempre Questo particolare Perché lui Di tutti Gli otto intervistati È l'unico Che non firmò La liberatoria E mi disse Noi siamo andati A parlargli In università E mi disse Va bene Io verrò A fare l'intervista Però La liberatoria Gliela firmerò Dopo aver visto Il prodotto Ok Quindi ci ha messo Questa Questa ansia Questa ansia Tanta ansia E noi ci lavoriamo Un anno E poi Se lui non firma E invece È stato Bellissimo Quel giorno Perché con Sono partito Con il computer Igor Ferro Che mi ringrazia È sempre stato Al mio fianco Siamo andati insieme In università Abbiamo aperto Tra l'altro La versione integrale Dura un'ora Poi ne ho fatto Una un po' più breve Lui si è guardato Tutto Senza proferire Parola E poi ha detto Dove devo firmare? È una bella soddisfazione È una bella soddisfazione La seconda soddisfazione Più grande Di quel lavoro È stato che Alessandro Barbero Essendo collega Di Sergi Professor Barbero Chi non lo conosce Esatto Ha voluto Questo filmato All'interno di Rai Storia E poi È andato in onda Anche in Rai Quindi per me Quello è stato Un po' Un battesimo Perché vuol dire Che tutti quei sacrifici Che abbiamo Fatto tutti insieme Perché poi Io sono magari Quello che fa partire L'idea Però poi attorno C'è sempre C'è una squadra Che era Una squadra Ma soprattutto Tanta gente Che ci ha creduto Soprattutto Tante comparse Ci sono scene di massa Ci sono Sempre girati Tutto qua In Canavese Nei boschi di Torre Abbiamo fatto Abbiamo fatto La battaglia Su Asparone Al freddo Abbiamo fatto Alcune immagini Dell'incoronazione Siamo stati a Torino Abbiamo girato Tanti luoghi Per ricreare Questa storia Ricordiamo Che Le spoglie Di Rardwino Sono Sepolte A Castello di Masino Ed è Un personaggio Che ancora oggi Voglio dire Ha un'aura Un fascino Particolare Aura Fascino Che mi permetti Il territorio Canavese Che tu Hai E continui Costantemente A portare All'arribato Mi ripeto Perché effettivamente Nell'analisi Che abbiamo fatto Di quelli che sono state I tuoi lavori Effettivamente c'è Tanto C'è Canavese Canavese Sì Ma perché poi Alla fine Voglio dire Io parto sempre Da questa idea Non possiamo Pensare di fare Gli americani Voglio dire Lasciamo gli americani Bravi A raccontare La loro America Poi loro sono bravi A raccontare tutto E noi Secondo me Dobbiamo raccontare I luoghi In cui viviamo I luoghi Che conosciamo Cioè voglio dire Io non andrò mai A raccontare La Liguria No Racconto I luoghi Dove sono Dove vivo E che Se poi guardi Sono ricchi Di storie Il lavoro Il lavoro dopo È stato Guido Gozzano Esatto Voglio dire Passiamo Da un re Dell'anno 1000 A un poeta Ma Ha sempre Con Connotazioni Con Radici Con Con Allacci Cannavesani Cannavesani Voglio dire Quindi Cannavese È un piccolo Territorio Che però Stai a guardare Offre tantissimo Solo che ce lo dimentichiamo Troppo spesso O siamo talmente critici Con noi stessi Guarda È capitato anche In altre interviste Che sono lungi Dall'essere Legate al mondo Del cinema E della cultura Dove ancora di più Si tende A dire Noi in cannavese Non ci rendiamo Forse conto Realmente Di quello che abbiamo Però poi Vediamo I lavori anche Che hai fatto tu E ti rendi conto Di quanto è bello E quanto è ricco Quanto è ricco Perché oltre a Guido Gozzano Tu hai raccontato Poi anche Alte ricchezze Che ormai Ci dividono Tutto il mondo Che è Carnevale Di Ivrea Lo storico Carnevale Lo storico Carnevale Lo storico Carnevale di Ivrea Siamo usciti Con questo prodotto Editoriale Libro Più DVD Con Ateno del Canavese Anche Quello Un modo Per Raccontare La festa Dello Scarlo Come il titolo È quello Lo scarlo È questo palo Di legno Avvolto Dall'erica Che viene bruciato Alla fine Del carnevale Che è un rito Dei tanti Che in realtà Invece È il rito fondante Di tutta la storia Perché da lì Inizia ad andare indietro Nel tempo Arrivi fino ai Celti Dove questi riti I riti pagani Venivano Venivano fatti In onore Del tempo Della natura Della rigenerazione Con la cenere Si rigenera La terra E da lì Rinasce Diventa un rito Della natura Questo rito Viene compiuto Tutti gli anni Esattamente come Il carnevale E il carnevale È un po' questo Se tu guardi bene Il carnevale di Ivrea È una stratificazione Di periodi storici Quindi veramente Parti dai Celti Passi per il Medioevo Per arrivare poi Al periodo Napoleonico Se tu guardi Voglio dire Lì c'hai due figure Hai la figura di Violetta Che è Medioevale E il generale Che è Napoleone Per poi arrivare Alle figure ottocentesche Come appunto Le ultime figure In estate Da quel comitato Che è fantastico Che è riuscito Secondo me Con questo Con i verbali Con le scritture Nel tempo Che hanno modificato E hanno inserito A creare Quello che è Questo enorme Spettacolo Che poi La battaglia Delle arance È solo uno Certo No dei tanti Poi è vero Che all'estero Vengono attirati Vabbè Mi viene in mente Come può essere L'automatia Di Valencia Eccetera Perché è quello Più spettacolare Esatto C'è la parte spettacolare Ma dietro c'è Tanta storia Come giustamente Hai detto tu Che hai anche analizzato In più occasioni Poi non bisogna dimenticare Il contributo Degli storici veri Quelli che Io vado sempre A intervistare In quel caso Franco Quaccia Storico locale Che ha passato la vita A studiare La storia La storia cannavesana Lui e anche Danilo Danilo Zaia Sono due personaggi Che Assolutamente Hanno fatto Tantissimo Per Mettere nero su bianco Quello che sono Quello che poi Io cerco di Trasportare In immagini Una Una delle cose Che io ho chiesto Subito È perché si tirano Le arance E allora lì Si aprono Un sacco Di situazioni strane Perché è anche Di balle Che vengono raccontate Miti e leggende Una delle ultime fake news Che avevo letto Su internet È che Che le arance Erano le balle Del tiranno Questa rosa Bellissima E invece no Perché si tirano le arance Questo me l'ha spiegato Era un gesto Che Le ragazze Allora Le arance Non erano Non era un frutto Che c'era La parte più nobiliare Un po' più aristocratica Dell'epoca Andava a svernare In costa azzurra Ricordiamoci Che in costa azzurra Ancora adesso C'è la festa dei limoni C'è il carnevale Degli agrumi Portavano Questo frutto Che tra l'altro È un frutto Legato Anche al matrimonio Era il frutto Per eccellenza C'è il famoso Inferidaggio Esatto Della fecondità C'è tu lo apri L'arancia A questi spicchi C'è tutto Dietro Una bella Una bella Diciamo Storia dietro Questo agrume Portavano su Durante La sfilata Carnevalesca Queste giovani Fanciulle Dai balconi Gettavano Infatti da lì Si chiama il gentil genio Gettavano Gli ufficiali Sotto Questo Questo dono Che doveva servire Un po' come Diciamo Un ringraziamento O anche un farsi notare Certo Di conseguenza L'ufficiale Prendeva L'arancia E lo ributtava su E di qua Da qua è nato Con questo semplice gesto Quello che poi è diventato Questo scambio Questa battaglia Dai balconi Perché all'inizio Si faceva veramente Dai balconi Lì abbiamo delle foto Abbiamo dei filmati Bellissimi Che abbiamo recuperato C'è stata tutta l'evoluzione Poi è stato vietato E' stato vietato E perché imbrattava Perché sporcai Tu più vieti una cosa E più quella E poi Mi viene voglia di farla E poi Poi chiaramente Si sono trovate le similitudini Allora i carri Che vengono chiamati Con i nomi Dei vari soldati Dei gendarmi Che stanno dietro Il tirano Rappresentano Il castellazzo E sotto c'è il popolo Che c'era Allora I proiettili Quindi L'arancia è diventata Un po' Il proiettile O la pietra Con cui si scaccia Il tirano Però tutto questo Viene innestato In uno storico Carnevale Che come hai detto Giustamente tu Ci invidiano Ci invidiano Attirano persone Da tutto il mondo Servizi da tutto il mondo Perché effettivamente E' unico Nel suo genere Ci sono tanti generi Diversi Simili Ma questo è sicuramente Un'altra Perla del nostro Bel Canavese Perla del Canavese Che tu hai continuato Anche A raccontare Anche Nell'ultimo periodo Si Diciamo che La cosa bella Del Canavese È che Tu lo puoi Tante sfaccettature Tu lo puoi raccontare Anche Semplicemente Con le bellezze Che hai attorno Storiche Che abbiamo Dai castelli Voglio dire I laghi A tutto quello Che ci circonda Ma Lo puoi raccontare In diversi modi Con i documentari Classici Come ho sempre fatto io In modo Classico Istituzionale Questa volta Invece volevo Provare a raccontarlo Ai giovani Con dei giovani E in questo caso È nato Canavese Dream Canavese Dream È più Una Una produzione Fatta Insieme A Gioacchino E Francesca Che hanno sposato Questo mio testo Che ho scritto In modo molto semplice E sono diventati Un po' I portavoce Di due ragazzi Che fanno Tipo un road movie Un percorso Che va da est Ovest A sud Nord Sud In giro Per il Canavese Raccontando A 360 gradi A livello Un po' Più turistico Forse Quello che è Il nostro territorio E questo È un filmato Che io ho fatto Durante L'ho pensato Durante il lockdown Eravamo tutti Un po' Certo Fermi Continuavo a guardare I miei hard disk Con tutto L'archivio E ho detto Beh Perché deve stare fermo Tutto questo Tutti questi filmati Deve stare lì dentro Mettiamoli In Su una timeline È uscito fuori Un documentario Di Di 30 minuti Che ha avuto Un grande successo Perché voglio dire Ad oggi In rete Canavese Dream Ha 14.000 visualizzazioni Beh Una bella soddisfazione Facendo Praticamente Pochissima Pubblicità Abbiamo fatto Una o due Diciamo Presentazioni Però si vede Che Come dicevi tu Anche prima L'uso Dei L'uso Di ragazzi giovani In un linguaggio Più semplice Avvicina Di più E Questo fa la differenza Arriviamo Alla fine Di questa cacarata Dice Chiedendoti Sono passati 20 anni Dalla Iena Tracciare i bilanci Sei ancora Molto Giovo Ci sono i capelli bianchi Tracciare i bilanci È ancora presto Perché hai ancora Una carriera Sicuramente Molto florida Davanti a te Tante idee Tanti progetti Però Ti chiedo Da quella Da quella produzione Quella Iena A oggi Ti saresti aspettato Quello che hai vissuto Soprattutto Quanto è stato importante Aver Avuto il coraggio Di realizzare la Iena Ma C'è da dire Una cosa importante Che Questo fa parte Del mio lavoro Ma soprattutto Della mia passione Tutti questi progetti Li ho fatti Prima di tutto Spinti dalla mia passione Poi È vero Che il mio lavoro È anche Quello Sempre nello stesso campo Di fare il freelance Di fare Il video operatore Di curare la fotografia In filmati Però Questi legati al territorio Sono mossi Esclusivamente Dalla passione E dalle amicizie E dal gruppo di persone Che mi sono creato attorno Che sono persone fantastiche Che continuano Ad appoggiare Le mie Diciamo Le mie idee Quindi finché io Non mi stancherò E continuerò a divertirmi Di storie ce ne sono Sempre tante Da fare Certo E continuerò A fare Di tutto Finché questo Questo territorio Venga sempre di più Conosciuto E apprezzato Perché mi rendo conto Che una delle cose Più difficili È far conoscere I cannavesani I cannavesi Alla fine dei conti È vero che lo scopriamo Forse via via Ogni volta che abbiamo L'opportunità Di ritrovarci Di fronte Quando ci sbattiamo Il muso Alla fine Ci rendiamo conto Di quanto è bello Questo territorio Di quanto questo territorio Dà a noi Ma poi dà anche agli altri E questo credo che Sia una cosa importante Anche ogni giorno Riuscire a scoprirlo Sempre di più Andrew Io ti ringrazio Veramente di cuore Grazie a voi Grazie perché è stato Un bel viaggio Tra i miei corretti In quello che è appunto Dei lavori I tuoi Che permettono Permetteranno sicuramente Anche in futuro Di conoscere Il nostro splendido territorio Che ha tanto da dire E tanto da dare Andrew Alla prossima Grazie mille Grazie a voi Grazie Guardando il Canavese Non si può che rimanere Affascinati Da questo gigantesco muro Alto fino a 600 metri La serra di Ivrea È la più grande Morenica d'Europa Appare come una lunga Collina rettilinea E divide il Canavese Dal biellese Un altro primato Del Canavese È quello di ospitare Ben quattro siti UNESCO Il sito Palafitticolo di Azzeglio Sul lago di Viverone Il castello Ducale di Aglie Il sacro monte Di Belmonte E Ivrea Città industriale Del ventesimo secolo Quest'area protetta È la riserva naturale Dei monti pelati Nelle famose miniere Della Val Chiusella Troviamo la Canavesite Un minerale molto raro La nascita del vitigno Erbaluce Ha la sua origine Nella leggenda di Albaluce Le montagne Che vanno Della Quinzeina Punta Verzel Ricordano il profilo Di una donna sdraiata A Cortereggio Frazione di San Giorgio Viene coltivato Questo fagiolo Bianco e piatto Chiamato Piattella Canavesana A San Ponzo Tutti gli anni Si svolge La Sagra delle Rane Una volta erano Alla base Dell'alimentazione In Canavese Tanto che gli abitanti Venivano chiamati Raner A Castelnuovo Nigra Nei primi giorni di maggio I prati si colorano Di bianco Grazie alla fioritura Dei Narcisi Dove vai? Aspetta Avete visto Quanta bellezza E quante curiosità Si possono trovare Qui in Canavese Insomma Come avrete capito Noi amiamo questi posti E ci piace raccontarli E quello che avete visto È soltanto una piccola parte Di quello che potrete trovare Qui in Canavese Vi aspettiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti